Ciao cari amici, un mio lettore, amico, una persona che mi segue anche sul mio canale privato Telegram, è un signore italiano che io stimo molto perché è una persona molto curiosa nei confronti del mondo circostante, è uno di quei italiani che non ha perso lo spirito di Marco Polo, di scopritore del mondo, colui che crede nella costruzione dei ponti e non nella costruzione dei muri, una persona mentalmente aperta che io ho conosciuto personalmente durante una delle occasioni in cui io incontravo i miei abbonati su Telegram e in una delle cene private quando l'ultima volta ci sono stato in Italia, li ho organizzati diversi e lui è anche arrivato, se non sbaglio era in Val di Susa questa cena, poi le ho fatte altre due e lui da quel momento lì ci siamo scambiati numeri di telefono, qualche volta lui mi manda anche degli approfondimenti interessanti, ci scambiamo delle opinioni, una persona molto attiva nell'ambito dell'informazione, ha un modo molto autonomo e ammirevole di informarsi, di elaborare informazioni. Io quando vedo persone così vi devo dire che mi torna un po' la fiducia nell'umanità perché capisco che finché ci sono le persone come questo mio amico, io mi permetto di chiamarlo amico, finché ci sono persone come lui, noi l'umanità ha ancora qualche speranza, non siamo una massa inerme e totalmente impotente di fronte al potere delle oligarchie. E niente, lui mi ha scritto altro giorno e mi ha mandato questo articolo che è uscito per la Repubblica, se non sbaglio, per il Corriere, adesso non mi ricordo perché io sinceramente non ho prestato attenzione, l'articolo è fermato da Rampini, un personaggio che voi sicuramente conoscete, io qualche volta l'ho beccato nei momenti di trasmissione televisiva, quando eravamo entrambi ospiti di qualche programma, io come sapete sempre rispetto le opinioni delle altre persone, raramente entro in discussione e ancora più raramente cerco di offendere le persone, anzi cerco di non offenderle mai e se entro in una discussione anche accesa, solo quando la gente inizia a o sostenere le cose improponibili oppure offendere me personalmente. Con Rampini io non ho mai avuto questi problemi, devo dire che è stato sempre un interlocutore gentile, non condivido neanche una mezza virgola di quello che lui sostiene, chiaramente si tratta di una persona completamente anglosassonecentrica, un classico giornalista che svolge il lavoro di propaganda, dei padroni anglosassoni e in questo articolo che io ho letto, devo dire che esce fuori proprio la natura del servo, la natura di colui che pur di dimostrare la fedeltà ai propri padroni, diffonde l'informazione veramente vergognosa, informazione anche, cari amici, degradante e pericolosa per il proprio paese, un'informazione che io chiamerei in maniera, diciamo elegante, la diffusione della fobia, ciò che lui nell'articolo racconta, in pratica l'articolo inizia da questa sua affermazione che dovrebbe funzionare a mio avviso dal suo punto di vista è come uno schiaffo in faccia a chi lo legge, lui deve svigliare dentro le persone un istinto di autopreservazione, di istinto di salvataggio, cioè lui dice nella prima parte dell'articolo il missile ipersonico che adesso hanno i russi può raggiungere l'Italia in un certo determinato, adesso non mi ricordo in quanti secondi, minuti, quanto lì lui l'ha scritto, tra l'altro anche dal punto di vista militare queste persone, ciò che scrivono bisogna verificare perché io ho lavorato, ho scritto per la Repubblica, ho scritto anche per alcuni giornali italiani e ve lo giuro di miei ex colleghi a volte mi vergogno perché c'è la gente che non capisce un tubo degli armamenti, della tecnica militare, nella Repubblica c'è solo una persona in grado di scrivere senza sbagliare le tipologie delle armi e comprende veramente bene come funzionano, questo è Gianluca Di Feo, Gianluca Di Feo, un raro esempio del giornalista italiano che veramente quando parla di qualcosa sa di quello che sta parlando, a Gianluca tra l'altro io voglio tanto bene una persona cara, uno dei pochi che attualmente scrive e lavora per la Repubblica che io continuo a rispettare e lo chiamo amico, comunque per il resto cari amici mi è capitato di tutto leggere in questi anni, ma non solo leggere, anche parlare, io mi ricordo che una volta mi ha chiamato un giornalista, adesso non vi dico chi è per non metterlo in imbarazzo, ma comunque si mettono all'imbarazzo da soli, questo mi contatta, io lo conosco personalmente, all'epoca non eravamo proprio, diciamo, in rapporti tali che lui mi poteva scrivere direttamente sul mio telefono, su whatsapp, però ha preso il mio numero nella redazione da qualcuno e mi ha scritto perché si parlava delle armi nucleari e lui ha letto il mio articolo che io all'epoca avevo pubblicato inerente alla situazione con le armi nucleari in Transnistria, se voi ricordate c'era un vecchio problema con le armi nucleari in Transnistria, voi sapete che Transnistria è un paese che durante l'epoca sovietica sul proprio territorio conservava 253 ordini nucleari in fase attiva, quindi si trattava, cari amici, non di un deposito dove c'erano gli ordini che potevano essere attivati, montati su un sistema portante e lanciati in forma di un missile balistico, un missile strategico e così via, si trattava di ordini nucleari attivi già montati sui missili che venivano disposti in questo paese perché la Transnistria era questa ultima striscia, ultimo baluardo degli interessi di federazione russa verso sud-est europeo. È un po' come se vogliamo fare un paragone geopolitico, so che molti mi potranno criticare per questo, ma io lo faccio per aiutare a voi di comprendere meglio le cose, perché ovviamente qualcuno dice no, Nicola, i paragoni non si fanno nella storia e nella geopolitica, sì lo so, sono anche, spesso sono proprio io che lo dico, però paragoni servono a volte per capire le persone che hanno bisogno di comprendere in grande linee alcune cose, paragoni funzionano, con ovviamente giusti spiegazioni. Quindi in questo caso, per farvi capire il funzionamento della Transnistria, voi dovete osservare ciò che una volta si chiamava Königsberg e adesso si chiama Kaliningrad. Kaliningrad, questa specie di avamposto nel mare del nord, tra Polonia e Repubbliche Baltiche, questa specie di isola strategicamente molto importante per i russi, per la quale i russi e i sovietici hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale e negli accordi con i vincitori, dopo la sconfitta della Germania nazista, i russi hanno detto chiaramente, noi per essere sicuri che non si ripeti ciò che si è ripetuto durante la seconda guerra mondiale, dobbiamo avere una nostra roccaforte, un nostro avamposto nel mare del nord, dal quale noi, usando le navi, usando le navi da guerra, le basi militari e soprattutto i sistemi missilistici, potremo controllare in maniera preventiva ciò che può rappresentare per noi il motivo di insicurezza. E con questo ovviamente i paesi che hanno creato il mondo post seconda guerra mondiale, cioè gli aliati, hanno stipulato gli accordi, se voi ricordate gli accordi di Yalta erano proprio gli accordi di divisione dell'influenza nel mondo, è lì che è nato il nostro mondo moderno. Stalin, Churchill e Roosevelt si sono incontrati e hanno fatto questa grande divisione del mondo e così poi dopo il mondo ha strutturato la propria struttura. Il Kaliningrad aveva questa e ha ancora questo funzionamento, stesso funzionamento, cari amici, niente di diverso, alla Transnistria, il posto dove sono nato e cresciuto, è un avamposto militare, una regione fortemente militarizzata, con grandi magazzini militari, con basi militari, con fabbriche militari. Noi eravamo formati già da piccoli con la consapevolezza che stiamo crescendo all'interno di un forte che deve essere difeso a tutti i costi perché noi siamo l'unica roccaforte, l'ultima roccaforte in mezzo a una situazione instabile da dove si può sempre spuntare il nemico e quindi il nostro senso dell'esistenza storico è difendere la nostra patria. In effetti nel 1992 tutti i transnistriani sotto la minaccia dell'arrivo di quelle forze che sono stati creati da paesi della Nato, quando hanno provato di fare il primo sperimento di guerra per procura sul territorio del post sovietico, hanno mandato contro la Transnistria le forze di Repubblica Moldava, lì c'erano tantissimi mercenari, tutto quello che oggi noi vediamo in Ucraina era già all'epoca da noi, solo che appariva per la prima volta, era un sperimento. In Ucraina poi sono arrivati già ben sapendo come si fa, mentre da noi loro ci provavano e noi abbiamo fermato a loro, allora all'epoca noi abbiamo fermato questa forza. Ciò che non si sa della Transnistria è che in Transnistria ci sono i missili e altre forme di armi nucleari. Io all'epoca ho scritto di questo e ho scritto anche di questo strano caso di sparizione di circa 100 ordini nucleari. Cosa è successo? È successo che la federazione russa, arrivando in Transnistria con 14esima armata, per fermare la guerra ufficialmente, per dividere la Moldova e la Transnistria, in realtà i russi sono anche arrivati per presidiare questo forte militare molto importante per loro e per dimostrare all'Occidente che loro non cederanno mai questo forte alle forze pro-occidentali e la Russia ha cominciato ovviamente a disporre i magazzini, disporre le armi. Per prima cosa loro hanno cominciato a levare le armi nucleari dalla regione. Per quale motivo? Ovviamente per estremo pericolo in cui si trovava questo territorio, perché se prima l'Ucraina era uno stato all'interno dell'Unione Sovietica e quindi la presenza delle armi nucleari in quel settore era anche rafforzato dalla presenza dell'Ucraina, dopo 1991 l'Ucraina diventò un paese staccato dall'Unione Sovietica e quindi dalla Russia e per questo motivo da un fattore di sicurezza e stabilità si è trasformato in un fattore di pericolo, soprattutto quando è dimostrato di voler iniziare a strezzare gli occhi alla Nato, voler iniziare a fare la zerbina dell'Occidente, delle anglosassoni e così via. Quindi una parte di questi armi nucleari è stata trasportata via con aerei, le trasportavano con aerei, questa operazione tra l'altro è stata organizzata da generale Lebit, lui lo ha spiegato anche apertamente in un'intervista a un giornalista di New York Times nel 1994, quando quel giornalista le ha chiesto se ci fossero le armi nucleari sul territorio della transnistra, lui ha detto sì ci sono, ma quanti sono? È vero che sono spariti 100 testate nucleari? Lebit ha detto sì, noi siamo arrivati e abbiamo fatto ispezione, era denunciato nei documenti sovietici che devono essere 253, noi abbiamo trovato 153 testate nucleari, quindi 100 testate nucleari non le abbiamo trovati. E ma dove sono spariti 100 testate nucleari? Come è difficile trasportare testate nucleari? E allora Lebit ha sorriso, le ha detto ma in realtà non ci vuole tanto, basta 4-6 uomini e un pulmino per trasportarlo e facendo capire che in effetti sono loro che l'hanno fatto. Perché hanno trasportato le armi nucleari? Ovviamente per diminuire il pericolo, per rendere più facile ai russi, alla 14esima armata di continuare a controllare quello che resta delle armi sul territorio della transnistria e poi dicono che tra 96 e 2000, quando è arrivato Putin in Russia, la Russia ha portato via tutte le armi nucleari della transnistria. Ma questo, cari amici, sono solo teorie, non si sa se ci sono o non ci sono attualmente le armi nucleari. E io di questo ho parlato nell'articolo. Questo signore, dopo che io ho pubblicato questo articolo, mi ha scritto, mi ha cominciato a fare delle domande sulle armi nucleari, su come si trasportano, di che tipologia. E io ho capito che questo non sa niente su armi nucleari anche se si tratta di un giornalista che scrive di guerra. Cioè lui di queste cose le deve sapere perché per tutta la vita non fa altro che scrivere di guerra. Questo per farvi capire, cari amici, il livello del nostro giornalismo. Per questo vi racconto queste storie. Magari qualcuno dice Nicolai, sei troppo dispersivo, stai facendo video troppo lunghe. Amici, io voglio farvi capire bene le cose. Per questo io racconto tante scene, tante situazioni che succedono attorno a una questione. Se volete, io vi ripeto, se per qualcuno i miei video sono pesanti, non mi vogliono seguire, amici, non costringo nessuno di seguire i miei video noiosi. Andate da chi vi racconta in tre secondi come funziona il mondo e siate felici. Ma evitate di perdere tempo di scrivere a me queste cose sperando che io, leggendo il vostro messaggio, comincio a fare i video come volete voi. Non lo farò. Io ho il mio modo di comunicare, ho il mio modo di raccontare le cose. Se vi piace, ascoltate. Se non vi piace, ascoltate gli altri. Siamo in democrazia. Però non mi costringete di cambiare il mio modo di essere perché io sono così. Vi chiedo perdono se a qualcuno questo non piace, ma io, ripeto, non costringo nessuno di stare qua ad ascoltarmi. Io ci tengo a spiegare molto bene le situazioni. Ci tengo di entrare nelle questioni, così ad esempio qua, se io parlo dell'articolo di Rampini e voglio raccontarvi tutto il background del mio rapporto con il giornalismo, così voi capirete molto meglio ciò che io sento e provo nei confronti di ciò che poi scrive uno come Rampini. Comunque, niente, questo tizio all'epoca mi ha fatto un po' rabbrividire perché io ho detto cavolo, questo qua, nella sua carriera ha scritto migliaia di articoli, non centinaia, migliaia di articoli sul tema di guerra. Ormai è una persona di certa età e non sa niente delle armi nucleari. Questo è veramente, dimostra quanta bassa la preparazione di certi professionisti, chiamiamoli così, di informazioni in Italia. E qua Rampini, cari amici, inizia il suo articolo con questo approfondimento sulle armi missilistiche russe e ovviamente il senso di ciò che lui dice è dare subito un pugno allo stomaco, uno schiaffo a chi legge, cioè dire guardate che voi vivete sotto il totale pericolo di armi missilistiche russe, i russi sono quelli che vi minacciano, i russi sono quelli che insomma mettono a repentaglio la nostra sicurezza. Io alla fine di questo articolo, dopo aver letto l'articolo di Rampini, una cosa ho capito, io non so che cosa voleva trasmettere Rampini perché lui probabilmente voleva mettere in questo articolo, non lo so, anche qualche sicuramente se chiedere a lui, lui vi racconterà che aveva le intenzioni buone e nobili e così via. Io quello che ho ricevuto è un avvertimento nei confronti degli italiani, avvertimento riguardo ai russi, cioè io se fosse un italiano, dopo aver letto questo articolo, io immediatamente inizierei a odiare la Russia e i russi e soprattutto russi presenti in Italia, cioè io avrei pensato ma dimmi te questi bastardi sporchi, maledetti russi assassini, cosacchi, ma come si permettono a minacciare il mio paese, la mia patria con le armi nucleari? E poi stanno qua, e poi vivono qua nell'Italia, vado a bruciarle la macchina, vado a fare qualcosa di brutto. Questo è il livello becero di russofobia che io ho percepito dall'articolo di Rampini. E poi la tesi, cari amici, la tesi che lui ha, diciamo, usato per legare insieme tutti i componenti propagandistici di questo suo articolo. La tesi principale è questa minaccia costante della Russia spiegata con le possibilità, con le caratteristiche delle armi russe. Ma scusatemi, io potrei fare una cosa simile, adesso faccio una provocazione e vi chiedo perdono, ma lo faccio per farvi capire tutto il degrado del pensiero che è stato messo all'interno di questo articolo, pensiero russofobo, pensiero di chi vuole diffamare un'intera popolazione e creare la fobia in Italia dei russi. È una cosa vergognosa. Voi immaginate che io vi scrivo un articolo. Amici, Mike Tyson è un feroce assassino. Un pugno di Mike Tyson può uccidere una persona. Un pugno di Mike Tyson dato in certo, in certe situazioni, sotto certa angolazione, con una certa velocità può sfondare la vostra mascella, frantumare il vostro cranio e far volare via i vostri denti con una tale velocità attimo di secondo. E poi parto a raccontare quanto è pericoloso Mike Tyson, come è pericoloso la sua tecnica di pugilato e così via. Ma cari amici, per non finire vittime di Mike Tyson basta di non comportarsi in maniera violenta con lui. Non è che Mike Tyson gira per strada come una furia e picchia le persone. Non è che Mike Tyson è noto perché sta massacrando le vecchiette in giro e questo è il suo sport preferito. Lui è un pugile patentato, usa il suo pugilato all'interno del ring e si incontra con professionisti sportivi preparati come lui. Mike Tyson non si aggira per le strade di Milano a massacrare la gente di botte, o per strade di Roma, o per strade di Firenze, o per strade di Bologna. Quindi non c'è nessun motivo di aver paura di Mike Tyson. Soprattutto se siete persone che rispettano altre persone, che si comportano in maniera dignitosa, che non provocano nessuno alle reazioni violente. E quindi perché uno come Rampini mi deve raccontare del fatto che io devo avere paura di un ipotetico Mike Tyson? perché mi sta raccontando che il pugno di Mike Tyson può causare dei danni? Perché giustamente mi vuole costringere a avere paura in primis e in secondo di odiare Mike Tyson. Per questo mi racconta come può essere distruttivo il pugno di Mike Tyson. Stessa cosa succede con le armi russe. Cioè Rampini parla di missili russi senza approfondire minimamente la questione geopolitica. Senza approfondire minimamente il motivo perché i russi possono utilizzare questi missili. I russi non sono noti al mondo come quelli che hanno utilizzato le armi nucleari senza criterio. I russi non hanno bombardato Hiroshima e Nagasaki. Così, senza alcun motivo, massacrando centinaia di migliaia di persone solo perché volevano fare dimostrazione della propria forza. I russi non l'hanno mai fatto. Anzi, vi dico di più. Ci sono stati i casi nella storia del mondo quando i russi avrebbero potuto utilizzare le armi nucleari e non l'hanno fatto. Hanno preferito di rischiare di dimostrare la debolezza. Hanno preferito di rischiare di essere interpretati come quelli che hanno accettato la sconfitta, ma hanno preferito di non trascinare il mondo nella follia nucleare. Allora con quale coscienza uno come Rampini scrive queste cose abominevoli, russofobe, sul comportamento dei russi. Ma perché lo fa? La risposta è molto semplice. Rampini, cari amici, fa parte della categoria di coloro che in Italia hanno una visione e una linea di propaganda completamente anglosassonecentrica. Loro lavorano per gli interessi non di Italia, non del popolo italiano, della politica italiana o anche di qualche oligarca italiano. No, assolutamente. Loro lavorano per gli anglosassoni. I loro padroni sono gli anglosassoni e quindi loro devono convincere attualmente, in questo periodo storico, l'Italia che i russi sono cattivi, che bombardare i russi nel Donbass, il territorio russo, alla fine è un bene. Perché l'articolo di uno come Rampini, e poi ci sono tanti altri, adesso io mi sono soffermato su Rampini non perché ce l'ho personalmente contro di lui, per carità, è anche simpatico. Vi devo ammettere che quando eravamo in diretta televisiva era uno, diciamo, di quelli meno antipatici, era uno di quelli che si poteva ascoltare, era meno scortese, era uno che non polimezzava in modo violento. Io umanamente provo anche simpatia per questo personaggio. So benissimo che è un personaggio che lavora per gli anglosassoni, tutto qua, quindi di fondo adesso ha diffuso una becera russofobia, un articolo vergognoso, ma io anche capisco che lo ha fatto perché probabilmente questo è il suo lavoro. Lui probabilmente deve ricevere stipendio, deve mantenere la famiglia, tenere i figli, ha probabilmente le sue spese, la sua vita, è ormai entrato in un sistema dalla quale lui non può uscire in nessun altro modo. Io ad esempio all'epoca quando mi è stata proposta una sistemazione del genere da parte di alcuni editori, io li ho salutati perché io ho detto, io ci tengo a rimanere me stesso anche se il mainstream italiano, occidentale sputerà su di me, racconterà di me delle bagianate, cercherà di diffamare. Io comunque ci tengo di ogni tanto andare a pranzo da mia mamma e voglio che mia mamma mi apri la porta e mi prepari il pranzo, perché se io comincio a diffondere le bagianate russofobia, la prima che chiuderà la porta in faccia a me sarà la mia famiglia, la mia madre, io ci tengo di rimanere in ottimi rapporti con mia madre. Per questo motivo io non voglio tradire il mio paese, ma Rampini ovviamente non è legato alla Russia come lo sono io e lui può tranquillamente scrivere e dire ciò che vuole sul paese che i suoi padroni anglosassoni hanno deciso di diffamare in questo momento. Comunque cari amici, ciò che sta avvenendo, questi articoli che stanno apparendo dimostra una cosa essenziale, il sistema anglosassone si trova in una crisi terribile. Perché esiste questa crisi? Perché loro non sono stati in grado negli anni di riformare il loro modello di propulsione globale. Loro sono rimasti attaccati al colonialismo e al capitalismo, capitalismo anglosassone becero, quello basato sulle speculazioni. Nel nuovo modello del mondo loro non riescono a integrarsi. Unica cosa che permetterebbe a loro di integrarsi nel nuovo modello è distruggere il mondo multipolare. Quindi distruggere il mondo che vuole essere libero dal loro colonialismo attraverso una guerra. Se loro non riescono a portare il progetto di questa guerra in maniera qualitativa, come abbiamo già visto, ciò che succede in Ucraina ce lo dimostra, loro preferiscono iniziare a distruggere la loro più importante macrozona dal punto di vista geopolitico che è l'Europa occidentale. L'Europa occidentale è la zona storica del dominio degli anglosassoni. Loro non vogliono lasciarla al mondo multipolare. Loro non possono immaginare che questo posto, questo luogo si trasformerà in un luogo di sviluppo per gli altri paesi per il resto del mondo. Loro la devono distruggere e loro la distruggeranno. Per questa gente è molto importante questo momento e per questo motivo loro, cari amici, stanno facendo questo lavoro, questa grande opera di propaganda. Comunque io, come sempre alla fine dei miei video, vi invito di riflettere su ciò che sta accadendo, vi invito di informarvi in maniera obiettiva su ciò che sta succedendo nel mondo. Sul mio canale privato Telegram io pubblico tantissime notizie che di solito vengono nascoste, strumentalizzate oppure censurate dal nostro mainstream occidentale, mainstream composto purtroppo da direttori e giornalisti corrotti in gran parte e io vi invito come sempre di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete seguirmi sul mio canale YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo molto importante per me e per il mio lavoro su queste piattaforme online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.